Ma lo reputo uno dei momenti più bassi della storia italiana, la fuga del re, la fuga del capo del governo, dei generali, del principe che scapparono al sud abbandonando Roma che venne subito occupata dai tedeschi che con una ferocia indescrivibile soppressero la resistenza, la piccola resistenza di alcuni militari. Fu un periodo di opportunismo, di doppio giochismo, di personalismi. L'Italia cadde in uno dei momenti più difficili e tragici della sua storia, fu l'inizio della guerra civile, proprio un paese che negli ultimi 70-80 anni era diventata una potenza mondiale, era finalmente unita, aveva vinto la prima guerra mondiale. Certo da quel momento poi nacque anche il riscatto, nacque la resistenza, nacque la sconfitta del regime. E' davvero anche questo uno dei momenti simbolo della storia italiana, del passare da una parte all'altra quasi senza accorgersene.